Eccoci qua, buongiorno, stiamo andando a Miyajima e poi dormiremo là e domani andremo a Hiroshima. Vai! Se per caso vi dovesse capitare di andare al bagno e dover fare qualcosa di rumoroso, basta spingere questo tasto, e qua parte il rumore con i cerebelli, voi fate come lo dovete fare, e poi quando avete finito spingete, ok? Molto, molto, molto utile. Ciao, oddio che tenero che è, ti voglio portare a casa, vieni a casa? Ce l'ho l'erba a casa, oddio che tenero, bello. Fammi una cosa nel frattempo. Sì, nient'altro, cioè dopo tutto che cosa sono venuta a fare io qua? Amore, me lo fai carezzare anche a me? Fammi un video dai, mentre mi cosa mi assale, perché io non ho erba da dargli, voglio solo fargli una carezza. Vediamo se... Amore, ti do questo pizzicchino qua, lo hai, ora mi mangia una mano. Giustamente dici no, non ce l'ho, senti, non c'ho nient'altro, non c'ho nient'altro, ciao amore, mi dono quanto sei denaro. E questo non ti piace? Oddio mio, ti voglio, vieni a casa, andiamo, andiamo a casa. Andiamo, andiamo a casa. Andiamo da quest'altro. Bimbo! Mi sta mangiando dai, poi sta mangiando. Ok, c'era il bullino da aspettarci. Questa è l'entrata della camera d'albergo dei viaggi, ma questa è l'entrata. Qui si lasciano le ciabatte, io ho i danzini del BTS, naturalmente. Questa è Noemi, ciao. Poi, non lo so, guarda. Vediamo se trova la luce. Questa non è. Io ho paura di scegliere. Qua c'è la luce. Grazie. Poi, accendi la luce di qua, e qui c'è una porta. Come si ha? Che moce? Noi mi ci metto un quarto d'ora per aprirla. Ah, no. Basta la pagina. Qua c'è, qui ci si lava, c'è lo sgappellino per lavarsi, poi lo tiro al bagno, e qui c'è la vaschetta. Perché prima ci si lava qua per terra, e poi ci si butta dentro la vasca e si fa il bagno. Ok? C'è una porta chiusa. Vai Noemi, andiamo alla porta. E questo è il. Mamma mia. Guardate che roba. Guardate che meraviglia. Cioè ragazzi, no. Vi giuro, non rende. Il video non rende. Noemi non rende. Noemi non rende. Qui c'è un armadio. Un armadio. Un armadio. E dentro ci sono le cose. Vabbè. Qui per le spiegazioni per fare la onsen. Quindi la sauna. No. La sauna. Le terme. Qui ci sono le vestaglie, le yukata. Qui altre cose. Che non so. Che non so. Però vabbè. Poi lo scoprirò. Poi. Di qua c'è un altro armadio. Dove chiaramente ci stanno i futon. Questo è il futon. Le coperte. Sì. Sì. Il futon. Infatti. Ecco. E questi sono i futon. Con le lenzuola. Le sci. E niente. Questo è l'armadio. Meraviglioso. Voglio pure in una casa così. Poi qua c'è il tavolo dove noi ci siederemo per mangiare. Questo è. Penso. Per fare il tè. Sì. Complimentare il sweet. Ok. Non ci faremo il tè. Qui ci stanno queste due poltroncine carissime con la televisione. Che tanto non guarderemo perché qua dentro c'è. C'è poco da guardare a televisione. E poi ci sta questo palcuncino. Che da sul mare. Da sul mare ragazzi. Una cosa bellissima. Scusate eh. Cerco di fermare noi. No. Si chiude così noi. Vabbè. Comunque. Avete capito. Insomma. Questo è paradiso. Ciao ragazzi. Io vi ho voluto bene ma mi fermo qua. Anzi. Non posso. C'è Melissa che mi aspetta. Niente. Assimo. Si e io o proprio do cort beatillo. Castiglio. ASE. Trorno. Il 7. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo giù, visitiamo Tori con i vari punti di interesse di Miyakeman e poi andiamo a Hiroshima. E' giù l'agripe, va bene, questo è l'hotella che non si vede. Adesso vedremo le riprese bellissime. Ok, grazie, ciao. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.